Perchè non me ne 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 ne? Era come immagine del gruppo di corso Scusa Cosa? Sappi che il gruppo di corso io ho la sua immagine come, come immagine di copertina Ma c'è una motivazione di volonti Cioè? E cioè, che purtroppo sono entrato con una nuova vita di l'accademia E purtroppo è stato molto bello